le due casupole erano a fianco a fianco ai piedi d'una collina nei prezzi d'una cittadina balneare i due contadini lavoravano duramente la terra infeconda per mantenere tutti i loro figli ogni famiglia ne aveva quattro davanti alle due porte quella barmaglia di ragazzini brulicava da mattina a sera i due più grandi avevano sei anni e i due più piccoli circa 15 mesi i matrimoni e le nascite erano capitati quasi simultaneamente nelle due case le madri riuscivano appena a riconoscere i loro figli tra di essi i padri poi li confondevano completamente gli otto nomi ballavano nelle loro teste mescolandosi di continuo e quando dovevano chiamarne uno spesso gli uomini gridavano tre nomi prima di azzeccare quello giusto la prima delle due case arrivando dalla stazione terminale di rollport era occupata dai tuvasche che avevano tre femmine e un maschio nell'altra casupola stavano i volen con una femmina e tre maschi tutti quanti campavano a stento di minestra di patate e di aria aperta alle sette di mattina poi a mezzogiorno e poi alle sei di sera le mogli radunavano i loro bambini per dargli la pappa come fanno le guardiane d'occhio quando radunano le bestie i bambini in ordine di età sedevano davanti alla tavola di legno lustrata da 50 anni d'uso gli ultimi frugoli arrivavano appena con la bocca al livello del piano si poneva loro davanti il piatto fondo pieno di pane inzuppato nell'acqua dove erano cotte le patate un mezzo cavolo e tre cipolle e tutta la fila mangiava fino a sfamarsi la madre imboccava il minore un po' di carnelessa la domenica era una festa per tutti e il padre in quel giorno s'attardava a tavola ripetendo ci metterai la firma per mangiare così tutti i giorni un pomeriggio d'agosto una carrozza si fermò improvvisamente davanti alle due casupole e la giovane donna che guidava disse all'uomo che le era seduto accanto guarda Henry quanti bambini guarda come sono carini arrotolarsi così nella polvere l'uomo non rispose abituato a simili espressioni di ammirazione che per lui erano un dolore e quasi un rimprovero la giovane donna aggiunse bisogna che li baci oh come vorrei averne uno quello lì il più piccino e saltando giù dalla carrozza corse verso i bambini prese uno dei più piccoli quello dei tuvash e sollevandolo tra le brazza lo baciò appassionatamente sulle guance sporche sui capelli biondi ricciuti e impastati di terra sulle manine che lui agitava per liberarsi da quelle fastidiose carezze poi risali e ripartì di gran trotto ma la settimana seguente tornò si sedette per terra prese il bamboccio tra le braccia lo imbottì di dolci e distribuì caramelle a tutti gli altri giocò insieme con loro come una ragazzina mentre il suo marito aspettava con pazienza nella carrozza tornò ancora fece conoscenza coi genitori poi venne tutti i giorni con le tasche piene di dolci e di soldi si chiamava signora Dubriere una mattina appena arrivati suo marito scese con lei e senza fermarsi dai bambini che ora la conoscevano bene entrò nella casa dei contadini essi stavano spaccando legna per cuocere la minestra si alzarono sorpresi offrirono da sedere e aspettarono la giovane donna con voce tremante cominciò sentite amici sono venita a trovarvi perché vorrei vorrei prendere con me il vostro il vostro più piccolo i contadini sbigottiti e senza sapere che pensare non risposero lei riprese fiato e continuò non abbiamo figli mio marito e io siamo soli lo terremo con noi volete la contadina cominciava a capire chiese volete prendervi Charlot no di certo intervenne allora il signor Dubriere mia moglie si è spiegata male noi vogliamo adottarlo ma tornerà a trovarvi se verrà su bene come tutto fa credere sarà il nostro erede se per caso avessimo bambini nostri dividerà alla pari con loro se invece non rispondesse alle nostre cure gli daremo quando sarà maggiorenne 20.000 franchi che saranno immediatamente depositati a suo nome presso un notaio e dato che ci è pensato anche a voi avrete fino alla morte una rendita di 100 franchi al mese l'avete capito bene? la massaia si rizzò furente volete che vi vendiamo Charlot? no certo mai non sono cose da chiedersi a una madre mai sarebbe un abominio il marito serio e pensoso non diceva nulla ma provava sua moglie con un movimento continuo della testa la signora Dubriere sgomenta cominciò a piangere e voltandosi verso il marito con voce piena di pianto una voce da bambina ai cui desideri sono sempre soddisfatti balbettò non vogliono Henry non vogliono fecero l'ultimo tentativo amici miei pensate all'avvenire di vostro figlio alla sua felicità ah la contadina infuriata gli troncò la parola sappiamo tutto abbiamo pensato a tutto abbiamo capito tutto andatevene e non fatevi più rivedere da queste parti non è possibile pensare di voler portare via un bambino in questo modo la signora Dubriere uscendo si accorse che i più piccini erano due e fra le lacrime chiese con la tenacia della donna caparbia e viziata che non vuole mai aspettare ma l'altro bambino non è il vostro Tuvash padre rispose no è dei vicini se volete andateci e tornò in casa dove ancora risuonava la voce indignata di sua moglie i Fallen erano a tavola mangiavano lentamente fette di pane su cui spalmavano con parsimonia un po' di burro che prendevano con la punta del coltello da un piatto collocato fra loro due il signor Dubriere ricominciò a fare le sue proposte questa volta in modo più insinuante con più precauzioni oratorie con più astuzia i due contadini scuotevano la testa in segno di diniego ma quando seppero che avrebbero avuto cento franchi al mese si guardarono perplessi consultandosi con lo sguardo rimasero a lungo in silenzio torturati esitanti poi la donna chiese che ne dici marito lui disse con tono sentenzioso mi pare che non ci sia da sputarci su allora la signora Dubriere tremante d'ansia parlò dell'avvenire del piccino della sua felicità e di tutto il denaro che avrebbe potuto ricevere più tardi il contadino chiese questa rendita di 1200 franchi sarà stabilita davanti al notaio il signor Dubriere rispose certo fin da domani la madre che stava riflettendo aggiunse cento franchi al mese non ci bastano a farci separare dal piccolo fra qualche anno potrà lavorare ci vogliono 120 franchi la signora Dubriere che pestava coi piedi in terra per l'impazienza li concesse senz'altro e siccome voleva portare via subito il bambino diede cento franchi di regalia mentre il suo marito preparava un attestato il sindaco e un vicino prontamente chiamati fecero da compiacenti testimoni la giovane donna esultante portò via il marmocchio che strillava come si porta via dal negozio il desiderato gingillo i tuvasse sull'uscio li guardavano andare via silenziosi severi forse pentiti del rifiuto non si sentì più parlare del piccolo jean valen ogni mese i genitori ricevevano dal notaio i centoventi franchi ed erano in urto coi vicini perché la tuvasce li copriva di contumelie ripetendo continuamente di porta in porta che bisogna essere proprio snaturati a vendere il proprio figlio che era un orrore una porcheria una corruzione a volte prendeva in braccio con ostentazione il suo charlot gridandogli come se avesse potuto capire io non ti ho venduto piccolo mio io non sono di quelle che vendono i figli non sono ricca ma i figli non li vendo per tanti anni ogni giorno fu così ogni giorno grossolane allusioni erano sbraitate davanti alla porta perché potessero entrare nella casa vicina la tuvasce madre aveva finito per credersi superiore a tutte le madri della regione perché non aveva venduto charlot chi parlava di lei diceva certo avrebbe fatto gola a chiunque ma lei niente si è comportata da buona madre la citavano spesso e charlot che entrava nei diciotto anni educato in quest'idea ripetutagli di continuo si credeva lui stesso superiore ai suoi compagni perché non era stato venduto i valen campavano senza stenti grazie alla pensione da ciò derivava l'implacabile rabbia dei tuvasce restati in miseria il loro figlio maggiore andò a fare il soldato il secondo morì e charlot restò solo a faticare col vecchio padre per dar da mangiare alla madre e alle sorelle minori aveva ventun anni quando una mattina una splendida carrozza si fermò davanti alle due caciupole un giovane signore con bella catena d'oro scese porgendo la mano a una signora anziana dai capelli bianchi ella gli disse è là figliuolo la seconda casa lui entrò nella stamberga dei valen come se fosse stata casa sua la vecchia madre stava lavando i grembiuli il padre infermo sonnecchiava accanto al focolare tutti e due levarono la testa mentre il giovane diceva buongiorno papà buongiorno mamma i due si alzarono stravolti la contadina commossa fece cadere il sapone nell'acqua e balbettò sai tu figlio mio lui la strinse fra le brazza e la baciò ripetendo buongiorno mamma e intanto il vecchio tremante diceva col tono calmo che gli era abituale così sei tornato jean come se l'avesse visto il mese prima dopo aver così parlato i genitori vogliono subito uscire per far vedere il figlio al paese lo portarono dal sindaco dal consigliere dal parroco dal maestro charlotte in piedi sulla soglia della sua caciupola lo guardava passare la sera a cena disse ai vecchi dovete essere stati proprio stupidi per lasciar prendere il ragazzo dei vallan sua madre rispose ostinata non volevamo vendere il nostro figliuolo il padre taceva è proprio una disgrazia essere stato sacrificato in questo modo allora tu vas padre disse con tono incollerito vorresti rimproverarci per averti tenuto con noi il giovane rispose brutalmente sì ve lo rimprovero siete dei buoni a nulla genitori come voi sono la disgrazia dei figli vi meritereste proprio che me ne andassi l'anziana donna piangeva sul piatto gemette seguitando e manda giù cucchiaiate di minestra versandone la metà vale la pena ad ammazzarsi per tirar su i figliuoli il giovane disse aspremente e avrei preferito non esistere piuttosto di essere quel che sono appena ho visto quell'altro mi sono sentito rimestare il sangue e ho pensato ecco a quest'ora sarai così si alzò sentite credo che sarà meglio che non resti qui perché ve lo rinfaccerai dalla mattina alla sera e vi farei fare una vita da cani perché sentitemi bene non potrò mai perdonarvelo i due vecchi non parlavano abbattuti e piangenti lui continuò no sarebbe troppo dura con questo pensiero in testa meglio che me ne vada a cercare fortuna in qualche altro posto aprì la porta entrò un rumore di voci i Vallin festeggiavano il figlio tornato allora charlotte picchiò col piede per terra e volgendosi ai genitori gridò andate all'inferno zottici e sparì nel buio grazie a tutti